Ambulatori chiusi, salvo le urgenze non differibili, l'assistenza domiciliare integrata e quella programmata ai pazienti terminali. I medici di famiglia aderenti ai sindacati SNAMI e SMI, il 30% dei professionisti in regione, dall'assemblea convocata a Limena inviano un ultimatum alla regione. Se entro il 12-13 aprile non arriverà la convocazione del tavolo per la programmazione dell'assistenza territoriale in Veneto, scatterà lo sciopero. Purtroppo ci scusiamo già con i pazienti per i disagi che si creeranno, ma non riusciamo a farci ascoltare in altro modo alla regione. Saranno costretti a andare a cercare altri operatori, quindi dovranno andare al pronto soccorso e in ospedale. I colleghi sono in sofferenza e c'è la necessità urgente di mettere in atto quelle che sono i tavoli previsti dal nuovo accordo collettivo nazionale. Abbiamo necessità di una delegazione trattante per scrivere un atto programmatorio che ci porti a un accordo integrativo regionale in tempi utili affinché ciascuna azienda non cerchi delle soluzioni approssimative e fantasiose in quelle che sono le problematiche cogenti del lavoro di tutti i giorni della medicina generale in tutti i suoi aspetti. Medici senza possibilità di svolgere il loro lavoro e sovraccaricati di pazienti, spiegano. Ci hanno sovraccaricato di carte, di moduli, di diktat aziendali, ci stanno sommergendo come dei muli, dico io, e non riusciamo più a venirne fuori, non riusciamo a fare la clinica, non riusciamo più a seguire i nostri pazienti. Questa è la denuncia dei sindacati SNAMI e SMI che lasciano però aperta una porta. Ancora un lumicino di speranza ce lo abbiamo. Ce lo abbiamo perché speriamo di poter avere una interlocuzione con una presa di impegno da parte della nuova direzione regionale nel venirci incontro in quelle che sono le nostre richieste.